Musica Buongiorno da Alessandra Bulcio e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. Apriamo con l'ampia pagina dedicata alla Fiera del Levante. Il sottosegretario all'interno, Alfredo Mantovano, ha partecipato questa mattina al convegno sul PON Sicurezza, il programma operativo nazionale che vede la Puglia tra le quattro regioni beneficiari e dei fondi destinati alla legalità. Ce ne parla Cristina Ferrigni. E di 141 milioni di euro il totale dei fondi assegnati alla Puglia tra le quattro regioni beneficiari e dei fondi PON Sicurezza, incluse nell'obiettivo convergenza dell'Unione Europea. Su 59 progetti a Valenza Territoriale, 16 in Puglia sono finalizzati a soddisfare le esigenze specifiche di sicurezza e legalità e assegnate alle amministrazioni regionali e locali. Se ne è parlato oggi nella Sala Leccio della Fiera del Levante, alla presenza del sottosegretario all'interno, onorevole Alfredo Mantovano, che ha ribadito l'importanza delle confische ed e beni alla criminalità organizzata. Quali sono le opportunità offerte dal PON Sicurezza? Sono tantissime. Ci sono centinaia di milioni di euro ancora a disposizione fino al 2013 per le necessità della videosorveglianza. E questa è una misura che ha trovato particolare audience, se così si può dire, perché è totalmente esaurita quanto a capienza. Ci sono invece delle misure ancora disponibili sul fronte dell'integrazione degli immigrati e sul fronte della ristrutturazione dei beni confiscati. Anzi, io mi auguro che soprattutto quest'ultima misura sia utilizzata fino all'ultimo centesimo, perché fino a questo momento abbiamo a disposizione 100 milioni di euro, solo con questa destinazione ne sono stati impegnati appena 25. Mancano due anni e questo significa che bisogna darsi molto da fare, perché in questi due anni si ristrutturino attraverso questi fondi il maggior numero dei beni confiscati possibile. Mondo del lavoro, opportunità per le donne, maggiore attenzione ai disabili e su questo che la Puglia deve puntare per candidarsi al ruolo di leader del Mezzogiorno. L'ha dichiarato il Presidente della Regione Puglia, nichivendo la margine della tavola rotonda alle giornate del Mezzogiorno, organizzata dalla Regione Puglia e dall'IPRES. Nessun commento sulla politica, solo un accenno alle primarie. Sentiamo le sue dichiarazioni ai nostri microfoni. Parliamo di Mezzogiorno d'Italia, parliamo di precari della scuola, parliamo della crisi della società italiana, parliamo della difficoltà per i disabili di essere assistiti, parliamo della fatica delle donne che trovano una barriera culturale, sociale e persino architettonica gigantesca per poter entrare nel mercato del lavoro. Parliamo delle giovani generazioni condannate a non trovare mai lavoro. Parliamo del dissesto idrogeologico in tutto il Paese, parliamo dell'erosione della costa, parliamo della necessità di portare più modernità e più libertà in Italia. Queste parole portiamole in un cantiere, costruiamo un vocabolario che possa mettere insieme le parole chiave del futuro e quella è una coalizione, quella è un'alleanza. Le primarie sono, dal mio punto di vista, lo strumento che può dare forza e speranza a un centro-sinistra, talvolta animato dalla paura più che dal coraggio, dal senso di sopravvivenza piuttosto che dalla volontà di vivere a lungo come prospettiva di rinnovamento del Paese. La Puglia è partner privilegiata per le operazioni commerciali con l'Albania. È quanto emerso oggi nel convegno organizzato da Confindustria Puglia. C'era per noi Michela Di Trani. Energia, infrastrutture, turismo, tecnologia è un mercato di 7 milioni di consumatori, è un'economia in crescita e temi con cui si propone l'Albania e gli investitori pugliesi, italiani e stranieri in un convegno organizzato oggi a Bari, alla Fiera del Levante, alla Confindustria. L'Albania negli ultimi 5 anni ha raggiunto una stabilità politica ed economica, un tasso di crescita che si aggira intorno al 3-4% e sta aprendo i mercati esteri con investimenti nei settori delle energie rinnovabili, energia elettrica, infrastrutture, turismo e guarda la Puglia con favore come possibile partner, ha dichiarato il direttore di Confindustria Albania. Ci sono già imprese pugliesi che operano in Albania. Una delle concessioni del governo albanese a produrre energie rinnovabili è stata rilasciata ad una compagnia proveniente dalla Puglia, ha aggiunto il direttore di Confindustria e presso il governo emetterà nuovi bandi per la realizzazione di nuove infrastrutture. È quasi pronta l'autostrada che collega Durazzo con la capitale del Kosovo, ma ne saranno costruite altre. Ma l'Albania vuole anche innovarsi e preferisce le tecnologie italiane. Agevolazioni finanziarie importanti sono previste per le imprese albanesi che acquistano dall'Italia, come ci spiega il direttore Fulvio Capurso del Ministero degli Esteri Italiano. Il programma per lo sviluppo delle piccole e medie imprese albanesi è un'iniziativa finanziata dal governo italiano per promuovere la crescita e lo sviluppo delle piccole e medie albanesi favorendone l'accesso al credito. In particolare sono previsti due strumenti finanziari, una linea di credito a 25 milioni di euro e un fondo di garanzia di 2,5 milioni di euro. Entrambi questi strumenti sono finalizzati all'acquisto di beni e servizi strumentali di origine italiana. Grazie.